Anni, sempre della linea opere, questa è la versione da sette anni, che era quella, appunto che si vedeva anche sul video, il nipote, il titolare, il figlio del titolare, che guarda la bottiglia e sorrida perché appunto è dedicata alla nonna, alla Amalia. Grazie. Ma quanto riguarda la linea? I credo 7-8 anni. Ma non ricorda, è da 2011.